Con l'arresto di tre persone e il divieto di dimora nella provincia di Modena e Bologna per altre sette, tutti accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e riciclaggio, si è conclusa l'indagine della Guardia di Finanza Charles de Gaulle dei militari di Orio al Serio, cominciata nel marzo del 2017 dopo l'arresto di tre corrieri che portavano droga tramite gli ovuli allo scalo aeroportuale bergamasco. L'organizzazione criminale con base a Modena introduceva illecitamente partite di cocaina e eroina da spacciare sul mercato italiano. I trafficanti per sfuggire controlli e sequestri inviavano i corrieri nei Paesi Bassi con un volo di sola andata e con il denaro contante per acquistare la droga, per poi farli rientrare in Italia con ovuli di stupefacente che ingerivano attraverso una rotta diversa, a volte anche via terra. In oltre due anni di indagine sono stati arrestati 67 corrieri di droga tra Italia, Belgio, Olanda, Spagna, Francia, Grecia e Malta in flagranza di reato e si è riusciti a risalire ai responsabili dell'organizzazione criminale. Dieci persone, tutte con base nel modenese. Nel corso dell'indagine sono stati sequestrati 51 kg di cocaina e 27 di eroina, oltre a denaro contante.